Beh, se sapevate che oggi c'era interrogazione, sì, è inutile che fate... no, no, va bene. E quindi adesso io devo capire se qualcuno qui dentro mi sa fare bene quel diagramma che al quinto anno, all'esame, chiederanno memoria e si chiama il diagramma psicometrico, lo sappiamo dire? Sì, sì, psicometrico. Allora, sentiamo se mi credo, do, ca, e in grado di fare, no. Comincia, no? Certo, ci aspetta. Allora, sull'asse orizzontale abbiamo la temperatura, sull'asse verticale... Sì, suona tra poco, dottor. Ehm... Volevo chiederle se alla fine scuola del suo registro era stata segnata la medicata Riccardo ieri. Ma non è così vero, è proprio per mia mamma dopo. Sì, ok, la prima. Non si prende macchina nulla. Eh, si vede che ha studiato. Si vede che ha studiato. Ma lo sapevo anche voi, sono proprio pazzi, dai. Vabbè, vai a te, vai a te. Dai, no, vai. Ma lo saprei fare comunque. Ma smetti di giocare. Cos'è che stai facendo? Dai, non posso mai fare la lavagna per i compiti per causa. Dai, vai, vieni. No, ragazzi, siamo sempre le solide. Avanti! Avanti. Diagrammo psicometrico. Allora, eh, farò sempre. Quindi, prof, posso sapere il mio volto? Mi pare che sia il momento di... Eh, sì, voglio sapere. E' quello che ne libretto. Beh, vai, stai giù, dai. Mi fai far incazzare il corpo. Vabbè, voglio andare. Stai, zio, stai così. Cioè, direi che siamo a un punto? Ah, grazie. Ci siamo, dai. Cioè. Basta così? Perché un quattro? Eh, lo so, pari, venire. Manca un po'. Ma poche. Un centivineo di linea. Tranquillo. La linea. È un po' più lungo. E quindi, se... Eh, ma... Siete direttori di orchestra voi? Non per chi? No. No, no, no. No, cancella, cancella. Ehm, shh. Va bene. Stamattina provando la sedessa andata al panarello, però... Comunque. Stavamo dicendo che... Eh, suona. Eh, suona. Eh, suona. Ma è un'altra ora per questo professore. Paolo, potremmo lanciare il panarello? Allora, subito, eh. Grazie. C'è com'altro. Allora, io. Vedo una verifica a testa. Sono diversificata, per stare vicini tanto. Ognuno ha la sua. Beh, è inutile che copiate, va bene? Sì. Ognuno ha la sua. E poi anche andare avanti, mi salete e mi guardi. No. Ho apposto che l'altro... Per. Mi saluto. Grazie. Questa. 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 Grazie. 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 Grazie.